Parte la maratona per il patto della salute, qual è la posizione di Funceo in merito? Pensiamo che sia un patto della conservazione più che un patto del cambiamento. Abbiamo dato una serie di suggerimenti al Ministro proprio per fare quel cambio di passo che ha più volte preannunciato. Ci sembra questo patto più conservatore rispecchia quelle che erano le linee che in questi anni si sono sviluppate. Noi crediamo invece che bisogna liberalizzare molto di più, coinvolgere di più i professionisti che sono completamente esclusi. Condividiamo l'ipotesi di modificare la governance del sistema ma non nella visione in cui è espressa nel patto, bensì nel dare maggiore responsabilità nei confronti del medico. Siamo assolutamente contrari al fatto che i giovani medici possano entrare nel mondo del lavoro, cioè nel servizio di vita nazionale, senza un'adeguata formazione. Siamo assolutamente sbalorditi dal giudizio dato sulla medicina generale, dal patto che ritiene l'ACN, cioè l'Accordo Collettivo Nazionale, di ostacolo addirittura a quella che è l'erogazione dei livelli di assistenza territoriale. Queste ci sembrano delle criticità che abbiamo rilevato e che potrebbero essere cambiate perché qui c'è tutta la nostra disponibilità a dare il supporto necessario al Ministero.